Attenzione all'apertura invece dall'altro lato per Rebic che si invola a sinistra ma adesso Luis Felipe a chiudere Rebic in aria le finte sinistro dentro per Ibra ha segnato Zlatan Ibrahimovic Scende Ben Nasser, tanto spazio a disposizione una volta superata la prima linea di pressione va largo da Ibrahimovic, calcia Ibra che chiude la partita Ibrahimovic con la punizione dal limite all'angolino, sua maestra Ibra, undicesimo gol in carriera alla Roma, 150 in serie a team per questo eterno ragazzo di 40 anni Ibra Ibrahimovic in aria recupera, calcia Ibra Ibrahimovic che non perdona l'errore della viola Cercato Teo Hernandez in profondità, la palla passa e passa Teo Hernandez su Odrezola, il cross dentro per Ibra Ibrahimovic Il Milan è ancora vivo, doppietta di Zlatan Ibra Ibrahimovic Va Ibrahimovic avanti il Milan Ibrahimovic entra nella top 10 dei migliori marcatori rossoneri nella storia della Serie A Castiglieco, il cross verso il secondo palo, Maldini la tocca, palla che resta lì, Ibra Ibrahimovic! Ibra Ibrahimovic in acrobazia, costruisce l'uno a uno, quella che chiama adrenalina, la scarica così Il filtrante, palla buona per Leao, entra in aria, va dentro Ibra Ibrahimovic, il tocco dello svedese E Milan in vantaggio, due minuti esatti, la sblocca Zlatan Ibra Ibrahimovic, otto in campionato per lui, uno a zero Milan A presto! Grazie a tutti.